Musica Lo abbiamo inseguito e ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti e lo abbiamo pizzicato qualche giorno prima della sua partenza perché ricomincia anche l'attività dei motori e allora il grande pilota automobilistico abruzzese di Giulianova, Gabriele Tarquini, a Acapulco on the beach. Ciao da Paolo Sinibaldi. Musica Gabriele Tarquini, ti era mai capitato di fare l'intervista così? Mascherina io, asta tu. No, beh questo è nuovo un po' per tutti, quindi anch'io nonostante la mia lunga esperienza non ho mai fatto un'intervista così. Allora, cosa hai fatto in questi mesi? In questi mesi che sono stati lunghi, poi doveva essere una quarantena ma è stata una quarantena moltiplicata tante volte. Beh, come tutti sono stato a casa, Giulianova con la famiglia, ho la fortuna insomma di avere due ragazzi che facevano scuola via internet, quindi l'ho cercato di aiutare, ho passato molto tempo in famiglia, avevo fortunatamente anche un tapirulan dentro per sfogarmi. E' una situazione strana un po' per tutti, anche per me, però insomma diciamo che io mi sono adattato bene. Adesso stiamo ripartendo, anche tu stai ripartendo perché ti abbiamo pizzicato proprio in extremis, perché anche tu non vedi l'ora di riprendere l'aereo per andare a provare, perché tu hai bisogno non tanto del simulatore come fanno i ragazzi giovani dei motori, ma tu hai bisogno del volante, delle ruote, del motore, del sedile, no? Chi è che diceva che si guidava con il C, puntini, puntini, puntini? Niki Lauda. Sì, Niki Lauda, sì. La mia generazione di piloti non ha conosciuto il simulatore, io l'ho conosciuto in tarda età, ho provato ad abituarmi agli schermi, alla realtà virtuale, ma sinceramente non ci sono riuscito bene. Mi dà noia, soprattutto lo stomaco, non ce l'ho neanche a casa, quindi non ho potuto neanche riprovarci. Ho bisogno di viaggiare per provare perché la mia squadra, la Hyundai Motorsport, ha sede in Germania, quindi dal 15 sono riaperte le frontiere fortunatamente con la Germania e la settimana prossima, già dal 22-23, riusciamo a fare il primo test, sto sviluppando una macchina nuova che uscirà per l'anno a venire, nel 2021, e quindi riprendono finalmente le attività, mi manca, mi manca il sedile, l'atmosfera della macchina da corsa, mi manca l'adrenalina che si sente, anche se le gare per noi sono ancora lontane, però ritornare tra virgolette un po' alla mia normalità mi farà sicuramente bene. Sarà una stagione completamente diversa, no? Perché si ripartirà per quello che ti riguarda da metà settembre e poi ci saranno tante gare in pochissimo tempo, in due mesi, quindi grande compressione, grande intensità e non si potrà sbagliare. Sì, tutti i campionati sportivi sono stati stravolti da quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, a partire dalla Formula 1, ma la MotoGP, insomma, scendere tutti gli altri campionati devono trovare questa compressione, queste esigenze di comprimere e di non viaggiare troppo, perché il nostro campionato, che è un campionato del mondo, si farà in Europa, come molto probabilmente anche la Formula 1 e la MotoGP, quindi sarà un campionato più breve, più corto, in due mesi, due mesi e venti giorni, che si effettuerà in Europa. La Formula 1, il Moto Mondiale, la MotoGP, i tanti eventi che riguardano anche altri sport, il porte chiuse, che cosa cambia? Perché è evidente che lo spettatore non potrà più andare a vedere concretamente la gara, ma ci si baserà tutto sulla parte televisiva, ma per gli attori principali, per voi, per i protagonisti, che cosa cambia non vedere nulla se non gli addetti ai lavori sul circuito? Cambia molto, io a dire la verità non ho mai fatto una gara a porte chiuse, magari un calciatore per qualche squalifica del campo ci è riuscito a giocare in passato, noi non l'abbiamo mai fatto, non abbiamo mai vissuto questa cosa, è una cosa completamente nuova, però devo dire che a differenza degli altri sport, noi il pubblico non lo sentiamo, quindi cambia un po' la coreografia, vedere gli spalti vuoti, cambiano gli incontri che facciamo abitualmente, noi abbiamo due ore di autografi che facciamo, incontriamo i tifosi, insomma il nostro è un paddock molto aperto, non è chiuso come la Formula 1, questo cambierà, però una volta in macchina diciamo che il pubblico non mi sono mai soffermato a guardarlo. Due anni fa tu avevi 56 anni e sei diventato campione del mondo turismo, il più anziano si può dire della storia della FIA, dei motori, oggi ne hai 58, non c'è nessuno della tua età che neanche lontanamente ti insidia, al di là del fatto che hai vinto due anni fa, ma andare ancora in macchina a quelle velocità, sfidare per certi versi anche le leggi di gravità, che cosa comporta? Tu sei allenatissimo, sei ancora con un grande fisico, ma 58 anni li hai? Sì, la mia è una storia strana, perché in genere si ferma l'attività sportiva automobilistica, in genere in Formula 1 a 37-38 anni massimo e poi le altre formule in genere sui 40, io pensavo di fare il pilota di superturismo fino a 40-41 anni, infatti già all'epoca mi sono attrezzato per continuare la mia attività in altri ambiti, nell'ambito motorsport ma su altri settori, avevo cominciato a fare del giornalismo, telecronache, però poi mi sono accorto che la mia carriera non finiva e fortunatamente non l'ho fatta mai finire, ho avuto questa fortuna incredibile di avere un fisico, una mente che è riuscita a sopperire agli anni, non ho perso magari quello che tanti altri piloti hanno cominciato a perdere, la velocità intorno ai 40 anni. A beneficio di chi magari non conosce proprio il mondo dei motori, ricordiamo semplicemente che tu hai vinto un mondiale a 56 anni ma altri longevi, storici, mitici per certi versi erano ad esempio, non so, mi viene in mente Fangio, mi viene in mente Brabham, mi viene in mente Mansell, mi viene in mente Raikkonen, beh, stiamo parlando di leggende, quindi anche tu fai parte di una sorta di Hall of Fame. Sì, noi abbiamo questa federazione internazionale, la FIA, che riconosce i campionati del mondo, quindi abbiamo un record del più vecchio campione del mondo. Io l'avevo già battuto nel 2009 quando ho vinto il primo mondiale superturismo perché avevo 47 anni e ho battuto Fangio che addirittura aveva vinto il suo ultimo mondiale di Formula 1 a 46 anni, quindi un'età già, però stiamo parlando di tanti anni fa. Già detenevo questo record e ho innalzato un po' l'asticella di tanti anni perché da 47 l'ho portata a 56. Indubbiamente è una fortuna, mi reputo una persona fortunata, al di là della bravura, del talento, ho avuto qualcosa che madre natura mi ha regalato perché indubbiamente è difficile avere a quest'età anche una prontezza di riflessi, una capacità di reagire a tutto quello che accade in macchina come un ragazzo perché i miei avversari qualcuno c'è sopra i 40 anni ma in genere hanno 25, 28, 30 anni, anche dei diciottenni quindi potrebbero essere addirittura non dico dei figli ma quasi dei nipoti. Gabriele Tarquini, Giramondo ma è di Giulianova e allora gli proponiamo il mare. Gabriele Tarquini, l'Abruzzo è terra di grandi piloti, non solo Tarquini, ce ne sono altri, alcuni anche in passato forse dimenticati però anche attualmente. Beh sì, insomma dell'era moderna io sono stato il primo ad arrivare in Formula 1, poi appena dopo di me c'è stato Iarno che ha avuto un'attività e anche una fortuna diversa perché in Formula 1 Iarno ha fatto delle vittorie, delle conquiste importanti e poi subito dopo c'è stato Tonio Iuzzi, quindi indubbiamente una piccola regione come l'Abruzzo avere tre piloti di Formula 1 nel corso di vent'anni è stato secondo me anche una cosa stravolgente, incredibile no? Perché noi non abbiamo autodromi, non c'è una passione neanche popolare paragonabile a quella che c'è in Lombardia e in Emilia Romagna, quindi è una cosa abbastanza strana. Ora però in Abruzzo i motori non hanno grandi gare, non hanno grandi eventi a parte l'assenza di autodromi, è rimasto praticamente come evento clou non solo le svolte di popoli ma anche lì con grandi difficoltà. Sì, questo perché non abbiamo una grossa tradizione, voglio dire non c'è stato un trascinamento popolare per queste conquiste, sono stati più casi fortuiti, indubbiamente quello che ci ha aiutato tanto è stata la scuola del kart perché il kart in Abruzzo è invece molto molto popolare, abbiamo tante piste, alcune importanti e quindi questa scuola del kart ha fatto sì che piloti come noi arrivassero in Formula 1. Poi sfortunatamente diciamo che attorno a noi non sono cresciute quelle infrastrutture, anche quella passione popolare che forse meritavamo perché insomma avere tre piloti di Formula 1 in una piccola regione come l'Abruzzo poteva essere una cosa importante per crescere anche come movimento. È vero che da ragazzino ti chiamavano il cinghiale? Immagino perché, perché eri grintoso forse no? No, mi si chiamano tuttora, nel motorsport il mio nickname, il mio soprannome è Cinghios e me l'hanno affibbiato tantissimi anni fa per la mia, diciamo, aggressività in gara, quindi questo nomignolo mi è rimasto attaccato. Nella vita di tutti i giorni invece come sei con le automobili? Cioè vai in giro con automobili normali oppure sportive oppure sei un amante anche della velocità, non so, sulle moto? Come sei nella vita di tutti i giorni, motoristicamente parlando? Beh, diciamo che adesso ho una maturità degli anni diversi, è chiaro che anch'io sono stato un po' tra virgolette scapestrato in gioventù perché questa passione ti porta a essere esuberante, però quello che ci ha frenato molto a ragazzi come me è stata la pista, noi riuscivamo in pista a sfogare i nostri istinti, quindi in strada sono stato sempre abbastanza prudente, lo sono ancora di più perché adesso ho un'altra età adesso. Sei giuliese, qui sei a Pescara in questo momento, ti piace, immagino il mare è qui perché comunque è lo stesso mare. Giulianova come Pescara, come un po' l'Abruzzo, è terra di tanti sportivi, la tua Giulianova in particolare è ricchissima di grandissimi interpreti in tanti sport. Sì, infatti ci accomuna non solo il mare, Giulianova e Pescara, la passione per il calcio, ma la passione in genere per tutti gli sport. Il mare è quello, la spiaggia è simile, la sabbia è la stessa, quindi indubbiamente abbiamo la fortuna di avere questo grosso bacino che dà anche sfogo, soprattutto in tempi duri come questo, insomma venire al mare ti dà una boccata d'ossigeno. Andiamo verso la conclusione, sei fiducioso di natura, ma soprattutto in questa situazione con andrà tutto bene, ce la faremo, sei fiducioso? Cioè hai paura di quello che potrebbe accadere, non so, tra qualche mese oppure vuoi dare un messaggio proprio di grinta, da cinghiale? No, io sono fiducioso, è chiaro che in un primo momento tutti eravamo molto spaventati, anche la reazione di chiuderci in casa e di seguire quello che ci dicevano di fare è stata soprattutto dovuta alla forte paura che questa cosa nuova ha impattato su tutti. Però, insomma, io penso che qualcosa di simile è stato vissuto anche in passato e nonostante non ci siano stati tutti gli aiuti tecnologici e di medicina che ci sono adesso, insomma, il mondo è andato avanti e anche questa volta penso che ce la faremo tranquillamente. Ti faccio un'ultima domanda, poi ovviamente ti toccano le pizzettine di Acapulco, sappilo, perché qui è tradizione. Un'ultima domanda però importante, perché so che tu sei stato anche concettualmente, ideologicamente molto vicino alla figura di Niki Lauda, quando è scomparso sicuramente questo ti ha toccato. Niki Lauda, punto fermo. E poi c'è un pilota che ti emoziona oggi? Guarda, sono legato ai piloti del passato, io da piccolo seguivo di più Gil Vilnev, che mi rappresenta un po' nel suo modo di correre, molto aggressivo. Niki Lauda è stata sempre il, tra virgolette, il ragioniere, un po' alla prost, una grande mente, una persona molto intelligente che ha saputo fare con il suo talento e ha saputo arrivare a grandi livelli. Adesso la Formula 1 la seguo, perché l'ho seguita tanti anni come giornalista sul campo, facevo il commento tecnico per le telecronache sportive e mi appassiona. Sono un appassionato, questa passione non mi abbandonerà mai, mi ha preso quando avevo cinque anni e finirà con la mia vita. Penso che anche adesso la Formula 1 sia molto appassionante, tecnologica, piena di motori, ibridi, piena di tecnologia, però l'elemento umano rimane sempre protagonista, perché alla fine quando ti chiudi il casco e vai dentro la macchina sei tu che la guidi e gli ingegneri non ti possono certo aiutare ad andare più forte. Non ci resta quindi che seguire il campionato mondiale di superturismo, di automobili e cerchiamo ovviamente di fare il tifo per lui, per Gabriele Tarquini, che anche quest'anno sarà alla guida della Hyundai, che l'ho reso campione del mondo ancora una volta due anni fa a 56 anni. Record del mondo. Ciao! 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 Grazie a tutti.